Questo anno ricorre il quarantennale della legge Basaglia, che io reputo sia un momento di civiltà assoluto. E ho voluto dedicare a questo quarantennale lo sforzo di organizzare questa manifestazione. Due giorni per capire, per sviscerare quali sono i rapporti tra arte e follia, quello che si chiama follia, e quindi tra la società e quello che la società ritiene sia follia. Abbiamo due giorni carichi di interventi e di laboratori. Verrà presentato anche il libro d'artista di Claudio Costa, che è stato un artista molto importante per la Liguria, ma soprattutto per l'ex manicomio di Quarto, in cui lavorò con i matti e lavorò per sé insieme con Slavic. E che altro dire? Insieme a Maccioni, che naturalmente presenterà questo libro, si alterneranno naturalmente professori universitari che arrivano da Genova e offrono gratuitamente la loro disponibilità, di cui li ringrazio, e colleghi, colleghi di Imperia, colleghi di questa scuola, come potete vedere dalla Locandina. Il tutto appunto per cercare di vedere sia dal punto di vista storico che dal punto di vista filosofico e sociale, quali siano i legami tra arte e follia. Grazie.